Operai del Comune edilicata al lavoro per ripulire strade, marciapiedi da erbaccio e quant'altro. Scatta alicata l'operazione avviata dal Comune per la bonifica di tutto il territorio con interventi di diserbo, disinfestazione e deratizzazione. Il primo cittadino Angelo Cambiano ha emesso un'ordinanza per l'adozione di interventi urgenti allo scopo di fronteggiare al meglio la situazione igienica e nell'ambito delle risorse disponibili. ha disposto l'avvio delle procedure per assicurare una serie di interventi per il diserbo, la pulizia, la disinfestazione e la bonifica di tutto il territorio. Priorità, secondo quando indicato dal sindaco nell'ordinanza, verrà data alla scerbatura dell'erbaccio dai marciapiedi e alla pulizia delle sedi stradali e dei cassonetti in aggiunta agli interventi già realizzati. Nei giorni scorsi infatti il sindaco aveva emesso l'ordinanza con la quale si fa obbligo a tutti i proprietari di lotti interclusi o a chi ne abbia l'obbligo a mantenerli puliti e privi di erbe infestanti. Il provvedimento riguarda sia i lotti interclusi presenti all'interno del centro abitato che nell'immediata periferia, nelle zone balneari, nei fondi adiacenti le reti viarie di trasporto, nei canali e nei fossi laterali alle strade e in tutte le aree comunque densamente abitate. Il dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici ed Urbanistica e il Comando di Polizia Municipale dovranno attivarsi per individuare i proprietari dei lotti interclusi e di terreni privati limitrofi alle strade comunali interessati da erbe ed arbusti infestanti o da abbandono di rifiuti, diffidandoli a ripulirli a proprie spese. In mancanza di tempestivi interventi dei proprietari sarà il Comune ad avviare le procedure in via sostitutiva con addebito dei costi agli intestatari delle aree. Il dirigente del Dipartimento Finanze dovrà provvedere al recupero del costo del servizio effettuato sostitutivamente dal Comune e riguardanti le competenze dell'addeda all'ambiente. L'amministrazione comunale di Ricata si è già attivata da tempo, infatti l'apposita squadra tecnica del Comune, a decorrere dallo scorso mese di marzo, ha dato vita alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione dell'intero territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del centro abitato. Grazie a tutti.